Allora, dicevamo, è l'introduzione alla lettura di Terra di Stefano Benni. Diciamo due cose quindi su questo romanzo che dobbiamo leggere in questo periodo. Ecco, questa è la Machu Picchu, quindi sono resti rovine di un'antica città inca, vista dalla vetta, la cima di quelle montagne. L'enlibro, infatti, sono evidenti le suggestioni che provengono da civiltà antiche, che nascondono segreti importanti. Una di esse è quella degli Inca, che vivevano e prosperavano sulle Ande peruviane a cavallo del 1000 d.C. Ecco, anche Terra si può definire un romanzo di fantapolitica esattamente come l'altro romanzo che abbiamo letto, 1984, di George Orwell. Anche se i cattivi cambiano, in questo romanzo i cattivi non sono gli europei, anzi sono i buoni, insieme ai cinesi. I cattivi sono gli americani e i giapponesi, portatori di un consumismo e di un militarismo sfrenato. Quindi, attenzione, come vi ho spiegato, la lettura di questo libro è propedeutica anche al tema in classe che faremo il 17 di maggio, che toccherà proprio queste problematiche, cioè le degenerazioni della nostra società, soprattutto le degenerazioni della nostra società occidentale, e quindi, ad esempio, il consumismo e il militarismo. Purtroppo, anche le cronache odierne riportano di minacce di guerra, ci sono tensioni, forti tensioni, ad esempio, fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, e queste sono realtà, sono fatti. Vi invito, in queste settimane, quindi, a tenere gli occhi aperti su tutte le vicende che, insomma, che attraversano il nostro pianeta, che purtroppo è attraversato ancora oggi da tantissime guerre. Cesare Stefano Benni, nato a Bologna il 12 agosto del 1947, dopo una fervida attività come scrittore satirico nell'underground della sinistra italiana, un'intensa collaborazione a un quotidiano come manifesto, ha iniziato a pubblicare alcune delle sue migliori opere di narrativa italiana degli anni 80 e 90, collaborato con il settimane L'Espresso, Cuore, Tango, Panorama e Mensile Linus. Dal 98 al 99 ha diretto la collana editoriale Ossigeno, per la quale è comparso anche come autore del racconto Il più veloce del cosmo, all'interno dell'albo Aventura numero 1, nonché dell'inedito ruolo di fumettista nell'albo Aventura numero 2. Insomma, è un intellettuale poliedrico, ha curato la regia e la sceneggiatura del film Musica per vecchi animali, scritto e scrive per il teatro, suoi testi sono stati pubblicati nei volumi Teatro della Feltrinelli, Teatro 2 della Feltrinelli, allestito con musicista Paola Damiani uno spettacolo di poesia e jazz sconcerto. Ricordatevi, a proposito, che il giorno 1 giugno noi potremo partecipare ad una lezione in cui ci spiegaranno un po' la storia del jazz. È una lezione spettacolo, diciamo, una lezione concerto. Stefano Benni è l'ideatore della pluriversità dell'immaginazione. Organizza e conduce periodicamente degli incontri all'insegna della fiducia, modo per ritagliarsi dei piccoli spazi in un paese dove il conformismo culturale sta moltiplicando i suoi iscritti. Dal 99 cura la consulenza artistica di Rumori Mediterranei, festival internazionale di jazz che si svolge ogni anno a Roccella Ionica. Ecco, l'esordio letterario avviene con Bar Sport, forse anche il suo... Quindi è vero, da qui è stato tratto un film, ma insomma, il gusto della deformazione caricaturale alla tipica umanità da bar, dal professore alcolizzato al giocatore di flipper, all'appassionato di calcio, seguirono la tribù di Moro Seduto, un libro di impianto satirico, prima o poi l'amore arriva, una raccolta di divertenti esempi di parodia in versi. Successivi romanzi e racconti confermarono la personalità narrativa di Benni e ne assestarono il successo nelle vendite. Tra i romanzi si ricordano appunto Terra, che è dell'83, e altri, insomma, romanzi, comici, spaventati i guerrieri, Baolo, una tranquilla notte di regime, La compagnia dei Celestini, Elianto e Salvatempo. Tra le raccolte di racconti, Il bar sotto il mare, L'ultima lacrima, Bar Sport 2000, Ballate, Blues in 16, raccolte di poesie, no scusate, Ballate e Blues in 16 sono raccolte di poesie, mentre Dottor New, una selezione di corsivi pubblicati sul quotidiano La Repubblica tra il 96 e il 2001. La produzione di Benni comprende anche testi per il teatro, la sceneggiatura del film Musica per vecchi animali, del quale l'autore fu anche regista. Ecco, noi abbiamo letto dei racconti di Stefano Benni, Fratello Bancomat, per esempio, e altri, li abbiamo, insomma, letti nei nostri libri di antologia e commentati. Il romanzo che andremo a leggere, invece, è il romanzo Terra. Il titolo deriva dal fatto che i protagonisti compiono un viaggio interplanetario per raggiungere un pianeta che possa ospitare gli abitanti della Terra, poiché su quest'ultima vi è una glaciazione perenne. Pertanto, un'altra tematica che tocca a questo romanzo è quello della contaminazione del nostro pianeta e quindi degli effetti catastrofici dell'attività umana e anche delle guerre, insomma, sul nostro pianeta. Abbiamo detto, quindi, che c'è una visione per cui, insomma, ad esempio, nel futuro potrebbe essere la Terra, noi oggi, come oggi, parliamo soprattutto di innalzamento della temperatura, però in questo romanzo, invece, si immagina che ci sia una glaciazione perenne. L'attività dell'uomo, l'attività antropica, porta a delle conseguenze sul pianeta e queste conseguenze potrebbero portare in un futuro quasi all'impossibilità di continuare la Terra, all'esistenza su questo pianeta. I personaggi principali sono Cook, uno scienziato in crisi che studia fenomeni chimici nelle piante in un laboratorio spaziale vicino al Sole. Chulain, un pilota spaziale a cui è affidato il controllo della Proteotien. Ecco, infatti, siamo nel 2157, ragazzi. La Terra è ricoperta da una nube di scorie radiattive che la priva del calore del Sole. Gli uomini, tra le poche specie animali sopravvissute, sono costretti in megalopoli sotterranee stratificate in livelli, si cibano di mouseburger e abbinando al lavoro principale con lo svolto nelle sale della prostituzione. Gli unici edifici che si sollevano dal manto di neve sono i grattacieli delle tre grandi alleanze che si dividono a ciò che resta del mondo. La Federazione Sinaeuropea che unisce Europa e Cina è praticamente la parte positiva diciamo così del mondo. L'impero militare samurai dei giapponesi e l'impero amero-russo sono invece le altre due potenze che sono viste in un modo assolutamente negativo. Infatti lui, comunque siamo nell'83, ancora non c'era stata la distensione, la glasnos, e lui già comunque pensava agli americani e ai russi come superpotenze che prima o poi si sarebbero alleate contro l'Europa e la Cina. Anche gli sheik arabi sono dentro questo impero amero-russo. All'interno di ciascun blocco di potere ci sono varie correnti che mirano prevalentemente a far tacere le opposizioni. Il ritrovamento da parte dei Sinaeuropei di una capsula rispedita da un esploratore spaziale contenente un messaggio che annuncia la scoperta di una nuova Terra riaccende l'esperanza di poter tornare a vivere su un pianeta a misura d'uomo. Da Parigi parte una spedizione formata appunto da uno scienziato quindi Cook, un pilota di astronavi ex-ribelle quindi Chulain, un telepatè cioè una persona dotata di poteri di telepatia e un tecnico. Mei e Fang sono due telepati in grado di incontrarsi col pensiero anche quando si trovano col corpo a grande distanza. Sono incaricati delle comunicazioni infatti tra la Terra e questa astronave la Proteotien. Einstein poi è un genio di soli 12 anni abilissimo nell'usare il computer ha un rapporto del tutto particolare con Genius 5 il computer più potente del mondo. Quindi parte questa spedizione. la notizia si diffonde in tutto il mondo gli Amerorussi e i Samurai inviano le loro navi nello spazio per impadronirsi del pianeta prima dei Sinoeuropei. Questa spedizione quindi abbiamo detto positiva dei Sinoeuropei e i Sinoeuropei sono positivi gli Europei e i Cinesi eccetera e invece questi Amerorussi e Samurai sono imperialistici e poi vorrebbero diciamo arrivare in questa seconda Terra prima dei Sinoeuropei. Intanto sulla Terra un vecchio saggio cinese e un bambino prodigio che appunto Einstein cercano di risolvere il mistero della civiltà Inca che li porterà a scoprire il cuore della Terra adesso senza quindi raccontarvi tutto quanto la storia perché non voglio rovinarvi il gusto sta di fatto comunque che queste storie parallele quelle dell'astronave che va nello spazio a cercare una nuova Terra e quelle del vecchio saggio cinese e del bambino Einstein che cercano di risolvere il mistero della civiltà Inca si incontreranno nel finale e ci sarà un anello di congiunzione che lega le due ricerche è chiaro quindi che è così come viene sempre a parlare non so cosa ha da dire stavamo dicendo quindi che la narrativa di Stefano Benni come abbiamo visto è caratterizzata da una particolare fantasia e quindi come vedrete si sbizzarrisce in questo romanzo vi divertirete a seguire tutte le sue invenzioni fantastiche come abbiamo detto però e questa è la cosa che ci interessa di più questa fantasia non è fine a se stessa ma è come se ci volesse trasmettere dei messaggi Fildes e Peek sono due ministri della federazione sine europea sono i classici esempi dell'uomo politico minano ad aumentare il proprio potere anche scontrandosi tra di loro alleandosi con le federazioni nemiche a quanto pare quindi non tutti quelli che appartengano a questa federazione sine europea sono personaggi positivi come dire anche anche le nostre latitudini anche nei nostri paesi ci sono sempre delle persone che approfittano del potere della politica per i loro scopi per i loro scopi personali notate che quella sine europea è una federazione mentre invece il quello amerorusso e quello dei samurai sono degli imperi Van Kram detto il vichingo è uno esploratore spaziale scomparso nello spazio fornisce molti dettagli utili al raggiungimento del presunto pianeta Terra 2 quello che stanno cercando vi ricordate con quella astronave Leo è un robot che accompagna i protagonisti nella loro avventura riesce a fornire loro molte informazioni prima di essere smontato dai soldati della Kala Bakra Karuso e Sara sono il meccanico della Proteo e la sua ape assistente e anche grazie al loro aiuto e al sacrificio di Sara i protagonisti riescono a portare a termine la loro missione Akrab e il re Sheikko a capo dell'astronave Kalal Bakrab abbiamo detto infatti che gli amerorussi vorrebbero arrivare su questo pianeta Terra 2 prima dei sino europei abbiamo detto anche che fanno parte dell'impero degli amerorussi anche gli Sheikki arabi e allora uno di questi che parte nel cielo insomma a cercare di raggiungere Terra 2 prima dei sino europei ovviamente diciamo che è un romanzo a lieto fine e quindi alla fine non vincono i cattivi che sono gli Sheikki gli americani i russi i giapponesi ma vincono i buoni che sono i cinesi e gli europei Arada e Yamamoto sono i comandanti dell'astronave dell'impero giapponese quindi abbiamo detto non solo gli amerorussi partono con una loro astronave con questo Sheikko ma anche i samurai dei insomma i giapponesi Arada si schiera nel corso delle vicende da parte dei topi mentre Yamamoto rimane fedele al proprio intento di distruggere la proteo ma fallisce grazie all'intervento dell'ape aiutante di Karuso come vedete quindi anche fra i cattivi per esempio i giapponesi sono i cattivi c'è qualcuno invece che la pensa diversamente Pinte Kaboru un abitante di Mellonta un uomo alto 7 metri coperto interamente di tatuaggi lasciatosi a bindolare dai membri della proteo mostra loro la mappa per arrivare alla navicella della strega la strega non è altro che una terrestre lanciata nello spazio a bordo di una navicella nel 1983 ricordatevi che il 1983 è l'anno di pubblicazione del romanzo e si immagina quindi che la navicella sia partita in quell'anno quindi una settantina di anni prima perché abbiamo detto che invece il romanzo è ambientato nel 2157 grazie a lei i protagonisti riescono a raggiungere il punto in cui era scomparso Van Kram ecco diciamo quindi che le vicende sono piuttosto intricate c'è un intreccio abbastanza complicato quindi si incomincia con gli Stati Uniti in realtà nel 2039 poi ci si sposta nella Parigi nel 1157 quindi scusate sono 180 anni dopo la pubblicazione del romanzo non 80 lo scenario si sposta a uno spazio su vari satelliti e pianeti su cui i personaggi atterrano e poi ritornare alla narrazione di quanto avviene sulla Terra e in particolar modo abbiamo detto vicino a Machu Picchu si alternano luoghi chiusi come laboratori astronavi ed edifici e luoghi aperti come lo spazio l'universo i pianeti e le montagne del Peru e in molti casi i luoghi rispecchiano i pensieri dei personaggi come le paure e le preoccupazioni dei personaggi nel risolvere l'enigma delle 15 porte e proiettata nell'ambiente buio e misterioso delle grotte di Machu Picchu l'intera vicenda si svolge nel futuro gli eventi narrati hanno inizio del 2039 quando scoppia la terza guerra mondiale quella che porta poi a questa tremenda glaciazione insomma poi sono narrate le vicende a partire da 2157 non coprono un arco di tempo superiore ad alcuni mesi vi è una sorta di prolessi sotto forma di profezia la leggenda intorno alle porte segrete di Machu Picchu è un'analessia al termine del libro la soluzione del mistero delle 15 porte ci riporta indietro nel tempo al tempo degli inca dicevamo ecco le tematiche le tematiche trattate in questo romanzo sono di vario genere comunque connesse alla società degli ultimi anni del novecento quindi dicevamo critica al consumismo dell'uomo dell'uomo moderno amplificata enormemente dall'autore e proiettata nel futuro tutti i prodotti futuristici inutili identificabili nel libro hanno come compito quello di evidenziare lo spreco del denaro quindi attraverso come abbiamo visto in quel racconto per chi vuole lo può leggere oppure può ascoltare la mia lezione su youtube fratello Bancomat ecco che il denaro spesso viene usato anche in modo illecito no? o comunque per soddisfare dei desideri ecco a questo ci induce il consumismo e su questo ci aiuta a riflettere Stefano Benni in questo libro si può inoltre scorgere in alcuni personaggi un richiamo ai politici del mondo moderno quindi politici corrotti sempre pronti a cambiare schieramento a vendersi a perdersi in discorsi futili e sciocchi ma è una dimostrazione della pungente critica verso la riunione tra i vari capi di governo del mondo verso il termine del romanzo in cui i ministri si lasciano prendere in giro da un ragazzo di soli 12 anni dicevamo Einstein che gli fa apparire dei maiali anche esplicitamente nel libro gli fa apparire dei maiali anche questo potrebbe essere un altro elemento che insomma induce a trovare dei nessi dei collegamenti tra questo testo di Stefano Benni e i testi di George Orwell in particolar modo la fattoria degli animali credo si possa riconoscere all'interno dei vari temi trattati quello dell'inutilità della guerra ecco quindi Stefano Benni è un pacifista è un antimilitarista e lo si capisce molto bene infatti abbiamo detto che gli imperi quello giapponese dei samurai e quello amero russo con gli sheik eccetera sono caratterizzati proprio dal militarismo già la situazione di glaciazione perenne della terra che l'autore propone come conseguenza di future guerre mondiali è significativa inoltre la belligeranza continua tra queste tre dicevamo queste tre grandi alleanze queste tre grandi federazioni sì sono federazioni perché abbiamo detto si sono confederati gli europei con i cinesi gli americani con i russi e con gli sheik arabi bene tutto questo la belligeranza continua tra queste alleanze che si vogliono impadronire del nuovo pianeta le porta come era prevedibile verso la rovina bene avete delle domande da fare su questa spiegazione bene